L'abuso che il Presidente del Consiglio intende fare del mezzo televisivo è veramente inaccettabile. Le trasmissioni di informazione non possono senz'altro essere utili al Presidente del Consiglio come un balcone per lanciare invettive e per dire solo quello che fa comodo a lui. Per quanto riguarda il caso Rubi in particolare ritengo che il Presidente del Consiglio debba presentarsi nelle serie opportune e fare chiarezza, ha il dovero di farlo così come glielo chiede il Capo dello Stato e come glielo chiedono i Vescovi.